So this is Christmas And what have you done? Questo è un augurio che nasce dall'impegno che lega me ed altre persone al nostro territorio. Parlo di un impegno, nato qualche anno fa, che intendiamo portare avanti ancora oggi con lo stesso entusiasmo del primo giorno. È Natale, ma è veramente Natale quando rimaniamo in silenzio ad ascoltare quello che le persone hanno da dirci. Troviamo quindi il tempo di fermarci e riflettere con serenità su che città vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. Dobbiamo avere l'orgoglio e la forza di comprendere che ognuno, partendo dal proprio piccolo, può essere parte attiva per un rinnovamento necessario e positivo per la nostra comunità. Non esistono formule magiche che risolvono situazioni così complesse e ambigue, ma con umiltà e onestà ce la possiamo fare. Il nuovo anno sarà un anno molto importante per Montegrotto Terme e noi non possiamo più rischiare di perdere il nostro futuro e quello dei nostri figli. Buon Natale e buon anno a tutti! Buon Natale e buon anno a tutti! Buon Natale e buon anno a tutti!